Il processo di cambiamento parte all'incirca 5-6 anni fa, quando l'amministrazione del Comune di Procida inizia a fare dei ragionamenti rispetto al riposizionamento dell'isola di Procida in un ecosistema fatto di turismo lento, di turismo sostenibile, di accoglienza, di industria culturale, di rigenerazione urbana. Quindi questo percorso porta poi a cogliere l'occasione della candidatura e dentro l'occasione della candidatura ovviamente è stata fatta un'operazione che è molto più vicina a quella di un piano strategico più o meno decennale piuttosto che una mera elencazione di eventi culturali. Per noi la candidatura di Procida non è mai stata la candidatura di una piccola isola del Golfo, ma è stata la candidatura di una comunità molto più ampia che sicuramente tiene dentro i campi fregrei e tiene dentro tutti e 35 i comuni delle isole minori. Sono arrivate manifestazioni ad esempio dalla città di Padula che è stata nostra competitor ad esempio che ha sottoscritto una delibera di completa adesione e decine e decine di comuni anche delle aree interne hanno manifestato questo interesse. Non ultimo qualche ora fa è arrivata anche una adesione del Comune di Horus in Danimarca, un posto assolutamente molto distante da noi ma in realtà molto vicino perché Horus è stata una delle recenti capitali europee della cultura e quindi ha potuto toccare con mano. Cosa significa porre la cultura al centro nella politica dello sviluppo?